Non c'è pace per la città di Brindisi, soprattutto se ci si riferisce a ogni possibilità di crescita economica e occupazionale. L'ultimo rischio viene dalla scelta dell'amministrazione comunale di Brindisi di avvalersi della possibilità di applicare un'addizionale comunale alla tassa di imbarco per tutti i passeggeri che scelgono lo scalo aeroportuale di Brindisi. Un vero e proprio pericolo di perdita di competitività a livello nazionale e internazionale. A lanciare l'allarme è la consigliera comunale di opposizione Carmela Lomartire, la quale sottolinea come la conferma dei timori giunge dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Ryanair che ha annunciato che porterà entro maggio in Italia decine di nuovi aerei. Un numero che potrebbe salire ulteriormente se venisse abolita l'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Questa tassa è fissata in tutta Italia a 6,50 euro ma il decreto legge aiuti ha introdotto la possibilità per i comuni con disavanzo pro capite superiore a 500 euro di incrementare ulteriormente la tassa per riassestare i bilanci ed il comune di Brindisi ha deciso di cogliere la palla al balzo e di fare cassa. Del resto, come sottolineano i vertici di Ryanair, questa tassa esiste solo in Italia e ovviamente danneggia tutte le compagnie aeree frenando lo sviluppo del settore. Va detto peraltro che l'aeroporto del Salento vive una costante fase di crescita e sarebbe davvero assurdo se venissero a mancare nuovi collegamenti che potrebbero determinare una ulteriore fase di crescita e conseguentemente nuovi posti di lavoro. La sola Ryanair ad esempio potrebbe portare i suoi passeggeri dagli attuali 56 a 80 milioni e c'è da giurare che altre città in cui hanno sede aeroporti italiani effettueranno la scelta di non danneggiare questo segmento economico rinunciando all'applicazione di una addizionale comunale sulla tassa d'imbarco. Ancora una volta insomma, rischiamo davvero di farci male da soli.